Si presenti Marra Gianluca Rosso dello Monaco Dario Nero, si prepari Di Masi Roberto Rosso a Caputo Carmelo Nero, a seguire Ranieri Pietro Singh Emanuele, Ranieri Pietro Rosso Singh Emanuele Nero. Secondo round, abiti pronti? Su, Rosso, 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 vince, round e incontro. L'Atleta Rosso, si presentino Valenza Giuseppe contro Bottalla Alessandro. Si preparino per sempre il Città, 65, Signore, Ventura Marco contro Bova Vittorio. Si preparino anche Mazzoni Paolo contro Secchi Simone. Grazie. Sì. Grande. Vai Dario! Vai Dario! Gocchialo! Vai Dario! Allora, se tu scrivi la trota ti strozzo. Vai di giù e scrivi la trota. Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Dai, Dario! Dai, Dario! Dai, Dario! Dai, Dario! Dai, Dario! Al controllo protezioni di Masi Roberti a Caputo Carmelo. Ricordo che il primo chiamato è sempre rosso. Arbitri su. Arbitri su. Dario, Dario! Dario, Dario! Dimasi Roberto e a Caputo Carmelo presentarci al controllo protezioni Per il prossimo incontro Signores Cinda 70 Catellani Alberto Simonelli Andrea Si preparino Catellani Alberto Simonelli Andrea Dai 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 Dario Dai 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 dottorio Prossima incontro Signore 65 Ventura Marco e Bova Vittorio Ventura Marco e Bova Vittorio al controllo delle protezioni poi il prossimo incontro ancora tra Catellani Alberto e Scimonelli Andrea arbitri pronti Rosso, 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 Rosso vince round e incontro l'atleta Rosso si presenti